Cyber Security Solution. Cosa si intende con questa espressione che è una delle più cliccate su Google? Te lo spiego nel video di oggi. Federico Bertamino è il fondatore di Alta Tensione, azienda specializzata in formazione e consulenza nel mondo delle reti dati e wifi. Nel solo 2022 sono state oltre 2000 le aziende che si sono affidate ai suoi corsi o alla sua consulenza. In 12 anni ha formato più di 1000 fra tecnici e imprenditori e derogato migliaia di ore di formazione in tutta Italia. Ingegnere certificato Microtech, Cisco e CompTIA ha costituito oggi il metodo reti IP Formula, un percorso di formazione completo per l'apprendimento delle basi indispensabili del mondo TCP IP. Sui suoi canali puoi trovare gli estratti gratuiti dei suoi corsi. Iscriviti ora! Ciao, io sono Federico, dal 2010 mi occupo di formazione e consulenza nel mondo delle reti informatiche, preparando i miei studenti in appena 30 minuti a settimana. Per Sighted Security Solutions si intende un mondo molto ampio, che raccoglie tantissimi professionisti diversi, non necessariamente concentrati sul mondo dell'analisi dei log, dello studio dei malware, insomma diciamo il classico nerd, ma che coinvolge anzi management, che coinvolge risorse umane, che coinvolge persino le risorse marketing di un'azienda. Infatti l'aspetto principale delle Cyber Security Solutions è quello di prevenire attacchi informatici, ma l'attacco informatico non lo previeni semplicemente con firewall e con tutti gli strumenti attivi, anche sicuramente, ma lo previeni prima di tutto con la formazione e con quella che potremmo definire Security Awareness, cioè rendere tutti gli utenti che utilizzano un computer consapevoli del fatto che potrebbero contrarre un rischio informatico, ad esempio da una mail di phishing, o ad esempio cliccando sul link che ti dice che hai vinto un iPhone o che c'è una donna disponibile a 3 km da te. Ecco, quel tipo di formazione con la Cyber Security non ha nulla a che fare dal punto di vista attivo, però rende l'utente consapevole che la signorina a 3 km da te non c'è per davvero. Poi, chiaramente, per Cyber Security Solutions prendiamo anche gli aspetti attivi, quindi imparare a configurare un firewall, imparare a configurare un antivirus, imparare a perché devi avere un antivirus, imparare a mantenere i tuoi sistemi aggiornati, se ti occupi di video sorveglianza, imparare a gestire le password, imparare a gestire l'accesso remoto al tuo NVR, magari con una VPN e non pubblicandolo sul cloud cinese. Questi sono aspetti attivi che rientrano sempre nel mondo delle Cyber Security Solutions. Infine, per le aziende più grandi che hanno un management, che hanno un direttivo, Cyber Security Solutions significa anche coinvolgere questi manager perché tutti siano proattivi ad allocare intanto un budget, perché se non hanno soldi da spendere in sicurezza vado poco lontano, e poi che siano i primi a dare l'esempio e a dettare le regole che poi renderanno l'azienda sicura da tutti i punti di vista, non soltanto, come dicevo prima, firewall antivirus, ma anche controllo di accessi, policy di accesso specifico a determinate zone, permessi limitati a privilegi minimi necessari perché ognuno possa fare il proprio lavoro, e tutte queste linee e guide che ben sono spiegate all'interno della Security Plus Comptia, la più importante certificazione in materia di Cyber Security che puoi trovare nel mercato italiano. E guarda a caso, la persona che ti parla è trainer abilitato a Comptia e se clicchi qui sotto puoi ricevere subito tutte le informazioni per una delle certificazioni più importanti per il tuo sviluppo professionale. Per cui clicca qui sotto, ti aspetto. Ciao! Dove stai andando? Te ne stai andando senza essere iscritto al canale. Iscriviti al canale e abilitare le notifiche. Ciao!